segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il presidente del consiglio draghi è arrivato a capitol hill dove al congresso americano incontrerà la speaker la presidente nancy pelosi marco allora adesso diciamo con questa linea che comunque la si legga la si interpreti è cambiata rispetto a qualche settimana fa conte il leader dei 5 stelle resta un po spiazzato perché nelle prime reazioni conte dice che tanto che auspica che la lega si unisca a loro e che comunque non c'è un discorso di pace fatta con draghi perché comunque non ci sono state stilettate e i 5 stelle puntano e continuano a puntare sullo stop dell'invio italiano di armi all'ucraina quindi non sono l'esegeta di nessuno quindi non so che cosa succederà con i 5 stelle credo che in questo momento il nostro problema minore è quello che succede nella maggioranza fino a quando non ci sarà un momento in cui dopo due mesi e mezzo di assenza draghi non si non scoprirà che in italia esiste anche un parlamento oltre che una costituzione e quindi riferirà in parlamento non credo che una conferenza stampa così fumosa possa risolvere i problemi dentro la maggioranza perché non è che basta citare la parola negoziato in una conferenza stampa per cambiare la linea di un paese bisogna vedere che cosa farà in concreto l'italia e se è vero che è così coordinata con macron e con gli altri leader europei per portare la russia e l'ucraina al tavolo è evidente che non può portare la russia e l'ucraina al tavolo un paese che continua a riempire di armi uno dei due contendenti quello aggredito e cioè l'ucraina dato che gli stati uniti stanno mandando una montagna di armi bisognerebbe cominciare a domandarsi se non sia il caso che l'europa lasci fare il lavoro sporco agli americani e cominci a prendere una linea diversa e cioè smettere di rifornire di armi l'ucraina che ne è già stra piena tra un po ci saranno problemi di traffico per parcheggiare tutti i carri armati che gli mandiamo senza peraltro capire chi utilizzerà tutte quelle armi perché c'è un problema di effettivi cioè c'è un problema di uomini ormai da quelle parti e proporsi come mediatori non si può curare il diabete con la mille foglie e non si può agevolare la pace continuando a mandare armi a uno dei due contendenti trascurando il fatto che per la nostra costituzione non le potevamo mandare nemmeno per difendere un paese non alleato e quindi figuriamoci per lo scopo offensivo che si propongono gli americani e gli inglesi questo è il tema fondamentale e quindi io spero che prima o poi vedremo draghi in parlamento vedremo un bel dibattito parlamentare dove tutti i politici che oggi sono costretti a parlare per la strada o sotto casa di una questione che si chiama terza guerra mondiale latente e che potrebbe scoppiare al primo incidente ovunque in qualsiasi momento si ritrovino nella culla della democrazia per affrontare questo tema cioè che cosa stiamo facendo a quale scopo continuiamo a mandare le armi e se questo è compatibile con il proposito dichiarato oggi e ancora non ieri e non sappiamo se anche nella sala ovale dal nostro presidente del consiglio non credo che si risolva tutto con una conferenza stampa dove si cerca di tenere insieme tutte le posizioni che evidentemente insieme non stanno più riproviamo un'altra